Palla larga, Goetze! È tutto solo! Super! C'è la prateria per andare! Neymar! E c'è il gol del Dortmund! Sono iniziati i secondi 45 di gioco, di occhio al raddoppio di Marca... Occhio alla botta! Si rispera giustamente, ma deve essere una buona opportunità. Probabilmente ne capiterà. Prova in porta! Ha spazio per andare! Si gioca, può colpire da lì! Riduce lo svantaggio, baragna metri verso l'area. Attenzione, occasione! E il pallone finisce in gol! Occhio cerca l'area di rigore. Ha un'autostrada a disposizione. Prova! Ed è rete! Occhio all'azione del Chelsea. Parte il tiro! Ottimo intervento nel portiere. Ci sono metri a disposizione. Occhio all'attraversone. Ha trovato un bellissimo gol di testa.